Nome? Valeria. Valentina. Nazionalità? Italiana. Italiana. Che lingua insegni? Deutsch. Deutsch. Uno stereotipo sui tedeschi. Usano i sandali con i calzini bianchi. Birkenstock. È vero che se sai il dantino è più facile imparare il tedesco? Per la costruzione della frase sì, per il lessico anche no. Secondo me no. Dimmi una cosa facile e una difficile del tedesco. Una facile è la pronuncia, una difficile è gli articoli di ogni parola. Una facile sono i numeri e una difficile sono i verbi. Canta una canzone. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, vi grunzi deine brezza. 99 Luftballon. Per parlare tedesco bisogna essere arrabbiati? Nein! Di una cosa dolce in tedesco. di visto sui. Mai le va scherz. Salutatevi! Ciao! 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 Ciao!